Eccoci qua, buongiorno, ciao e benvenuto a questo video. Allora, io sto facendo un corso di public speaking, ho un coach che mi aiuta e mi ha dato un compito. Io questo compito oggi voglio farlo vedere, voglio farlo e voglio farvelo vedere. Il compito che mi ha dato è quello di riprodurre il discorso di Al Pacino su ogni maledetta, il film ogni maledetta domenica. È un discorso motivazionale e è un discorso bellissimo. Guardate adesso, io farò così, farò due, voi vedrete adesso, no ne vedrete, ne vedrete uno solo, io ne farò due e sceglierò il migliore. Poi sotto scrivetemi commenti sulle somiglianze che ho con Al Pacino, sulle mie grandi capacità di recitazione. I complimenti saranno ben accetti. Andiamo. Non so cosa dirvi davvero. Tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete che con il tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo e un ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita, ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa, in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. In quei dieci centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremmo ambientati individualmente. E' il football ragazzi. E' tutto qui. Allora, che cosa volete fare?